questo è l'inverno del grande vivaldi sentite che bella i musici l'hanno eseguita nel a san marco a venezia su vivaldi c'è una piccola parentesi su un suo discendente che è un mio vecchio amico con cui siamo andati a visitare una volta raffia c'è una parentesi in questo mio libro è volume 2 che io vi consiglio davvero che esce la prima settimana di giugno quindi a breve è un bel libro il volume 1 è già stato un bestseller questo questo è un libro il classico libro perché nessun altro compagno è ideale nel periodo vacanziero estivo di un libro di un bel libro e questo è un gran compagno di viaggio botta e risposta grande leo zaga può essere usato anche come oggetto contundente anche questo allora 342 41 51 406 i vostri messaggi li leggiamo poi in un angolo a parte adesso vado sulle grandi curiosità generali perché si entra in massoneria allora perché si entra in massoneria allora se sei dipende chi sei prima di tutto allora perché la gente vorrebbe entrare in massoneria senza avere un seguito un'indicazione un filore familiare da seguire perché qualcuno si avvicina all'autore e dice mi fai entrare in massoneria da parte dei diciamo piccoli borghesi il piccolo piccolo borghese come descrive a monicelli il 1977 ti ricordi quel film ti ricordi l'iniziazione abbiamo sentito con giole magari allora basta vedersi il film per capire perché entrano in massoneria per un posto di lavoro sì è squallore e quello squallore ovviamente non fa parte dell'aristocratico che invece entra in massoneria per tutta un'altra storia perché la massoneria nasce dalle cavallerie dalla cavalleria e quindi dagli ordini cavallerischi e c'è un filo continuativo nelle gran maestranze massoniche legate a alcune famiglie e quindi diventa un una responsabilità più che altro una responsabilità che tu se vuoi o non vuoi comunque ce l'hai mio padre non l'ha voluto accettare è scappato tutta la vita io non affibbiare fino all'ultimo e lui l'ha rifiutata mentre invece io l'ho accettata perché mio nonno è una cosa alla fine ho capito che mio padre si era lui non era voluto entrare però gli hanno fatto pagare cara e alla fine quello che lui avrebbe potuto fare per veramente cambiare il sistema e non ha fatto e questo alla fine mi ha reso triste per quello che sono voluto entrare allora si entra in massoneria il borghese piccolo piccolo per il posto del figlio dice sono costretto tra l'altro alla straordinaria shilly winter addirittura ci sono personaggi che entrano in massoneria all'estero perché vorrebbero magari poi incontrare nella massoneria magari di un determinato paese per farsi dare un visto di lavoro c'è cosa allucinante il fascino perverso del villaggio globale colpisce anche la massoneria e ecco il momento squallido questo nella ricostruzione massone maestro ma che è a maraverna mi ricorda era un amaro no dice oddio ma che è a maraverna montenegro c'era montenegro c'è sangue del fratello è montenegro non ti preoccupare alza di questa chi c'è tutta questa è molto viene molto molto depravata la figura della massoneria in questo film diciamo che poi il materassaio di arezzo come lo ama chiamare raffi a gelli e beh grazie a questo tipo di piccolo borghesia che si voleva fare strada è arrivato dove è arrivato però se si è fratelli perché principaliata che è il mio iniziatore che poi purtroppo lo diciamo lo sfanculò negli anni settanta appena a proposito di sfanculare caro zagami però è questo tipo di di stampa che fa forte la massoneria nell'immaginario allora la gente mariotto innegabile patrizio dice se entro in massoneria sono un po della massoneria la borghese piccolo piccolo più che di sensimento di status proprio d'animo quel viscitone ci metto in massoneria sistemo moglie e figlie ma questo è il clientelismo il nepotismo imperante tipico del popolo ma succede anche con l'opus day succede anche con altre organizzazioni però ci sta arrivando ecco però quanto ricusate quanto rinculate questo tipo di di gente d'approccio perché poi anche la forza della massoneria perché l'immaginario essere massone significa essere potente e protente nella vera massoneria quella che nasce in inghilterra possono entrare tutte le classi sociali era finalmente il modo per cui il principe poteva incontrarsi nello stesso tavolo con quello che lavorava il lavoro più umile cioè nello stesso tavolo nella gapa massonica si incontravano i fratelli di qualunque mestiere infatti le radici della corporazione di mestiere sono particolarmente forti nella massoneria anglosassone anche se poi molti danno anche troppo valore a queste radici infatti ne parlo nel volume 1 e escludendo quelle esoteriche quindi non puoi escludere quelle esoteriche fanno fanno un tutt'uno solo che ovviamente se rimane all'interno dell'ordine senza entrare poi nei riti cioè che vengono perfezionati dopo il grado di maestro massone queste cose non le puoi capire allora poi ti devo far sentire una cosa tanti messaggi 342 41 51 406 Gesù lo considera un massone Leo Zagami allora lì al termine di questo libro con l'ultima frase tu vai proprio l'ultima andiamo andiamo con l'ultima parte è il secondo capitolo allora c'è una testimonianza durante il fenomeno dell'inchiesta p2 nei primi anni 80 questo io qua l'ho scritto ed ecco il gran finale di questa mia opera chiudo con le parole il generale massone salvatore scibetta che era un generale fermati lo trovate tra qualche tempo in idea no 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 a una mia una mia cugina suora 65 anni mi telefonò dicendomi che pregava per me perché ero nella p2 evidentemente riteneva che sarei stato punito col fuoco eterno del regno di belzebù le dissi di pregare per i morti suoi e i miei e non per me finché vivevo e aggiunsi che il più grande massone dell'umanità era stato Gesù Cristo beh lui aveva molto e questo è il finale del mio libro questa è una versione zagamiana però rasenta molto il vero cioè con questi dodici stavale il discorso di Gesù è fondamentalmente questo lui si è ribellato duemila anni fa ma quelle persone sono ancora a potere adesso quindi sta ribellione non è servita niente perché Ponzio Pilato e il diciamo il gran sacerdozio degli ebrei io so anche da io assolutamente guarda ti incalzalo perdonami un mio ex massone un mio amico ex massone come dice lui in sonno mi ha detto che si è fatto esorcizzare per uscirne vi chiedo perché buongiorno da Fabio guarda quando si entra in massoneria se poi si va a finire in alcuni riti e addirittura si viene cooptati in pseudo massonerie deviate o paramassoni si può entrare veramente in contatto con il male e anche in alcune massonerie che si dicono regolari in effetti c'è un egregore malvagio quindi il gran maestro in effetti sta usando la magia nera e lì a quel punto se tu sei sotto l'influenza di un sigillo demonico tu hai bisogno di un esorcismo che cos'è la massoneria deviata e cosa fa la massoneria per combattere la parte negativa dello chiede simone allora a chiacchiere quella regolare vorrebbe combattere quella deviata ma l'unico al mondo che lo sta facendo è leo zagami con i suoi 200 seguaci anche personaggi come magaldi che si stanno un attimo infuriando ma siamo ancora pochi al mondo perché io internazionalmente sto radunando avvicinando a me tutti coloro che vogliono veramente e dare un colpaccio a quella deviata perché non è vero che quella regolare e tanto regolare no quella deviata se la fa con quella regolare vertici fammi dare il bello il brutto del nostro lavoro un'agenzia arrivata pochi minuti fa qui redazione morà che tra l'altro questa notizia non la sa l'amico mariotti chiederò anche una sua interpretazione e un suo parere morano calabro provincia di cosenza alle 3 0 6 una forte scossa di terremoto magnitudo 4,3 è stata registrata sull'appennino calabro lucano in calabria con epicentro a morano calabro ad una profondità ipocentrale di tre chilometri comuni prossimi all'epicentro sono castrovillari morano calabro san basile e saracena tutti in provincia di cosenza la scossa è stata avvertita distintamente dalla popolazione del pollino già interessata ad una lunga sequenza sismica nello scorso mese di novembre la cui magnitudo massima fu di 3,6 terremoto di oggi molto più forte potrebbe essere l'inizio di una nuova sequenza e pertanto sarà importante verificare tutte le scosse che seguiranno dopo la scossa principale di magnitudo 4,3 sono fino ad ora seguite altre 26 scosse fra cui le più importanti alle ore 0 3 29 di magnitudo 2,1 3 32 magnitudo 3,2 701 di magnitudo 2,2 alle 7 un quarto di questa mattina magnitudo 3 2,3 nelle seguenti immagini poi qui ci sono le immagini ma noi vi portiamo sulla nota si riflette in basso ciò che è in alto ricordiamoci questo è anche parte della massoneria stessa cioè c'è un movimento cosmico che poi influisce dagli astri fino a noi e noi siamo in un momento storico molto importante anche Mariotti lo sa molto bene infatti ne può parlare Claudio Crespina che salutiamo il nadir è stato chiamato dalla protezione civile perché aveva l'8 di maggio previsto sul suo sito il nadir.com aveva previsto in un articolo che se non ricordo male se in titolo alla luna gigante ma credo sia preferibilissimo sul sul sito in questione aveva previsto per il 20 maggio a faenza un sisma di rilevante portata e quindi questa è una non la sola ma una delle tante dimostrazioni che il diciamo gli allineamenti planetari le eclissi le grandi croci cardinali che si verificano sia da un punto di vista astrologico che astronomico e naturalmente anche le tempeste magnetiche solari la cintura fotonica che sta per avvolgere definitivamente il nostro sistema solare e tutta una serie di altri fenomeni legati sia all'astronomia che all'astrofisica che alla processione dei corpi siderali è certamente almeno a mio avviso e quelli di molti altri ricercatori diciamo elemento non soltanto importante ma per certi aspetti amplificante e scatenante di tutta una serie di dinamiche che si sviluppano a livello della nostra litosfera e quando parlo di litosfera parlo evidentemente di fenomeni legati all'interno alla parte sottostante alla crosta superficiale del nostro pianeta e quindi sismi vulcani orografia faglie tettoni gazzolle e quant'altro ti rubo proprio 30 secondi Claudio Cresmin ha dimostrato che c'è questa capacità previsionale dobbiamo stare attenti a qualche giorno c'è nell'area qualcosa? intanto io suggerirei di monitorare perché in questo ambito specifico c'è quello astronomico astrologico e quindi le congiunzioni che da questo ne derivano consiglierei a tutti i nostri ascoltaroteri di monitorare il sito di Claudio quindi il nativ.com ma il 5 e il 6 giugno e dall'altro ecco c'è già stata posta in attenzione un paio di periodi io non posso né voglio essere così preciso come potrebbe farlo Claudio ma diciamo il 5 e il 6 giugno quindi la prima settimana di giugno e l'ultima settimana di giugno quella che va intorno al 23 e 24 25 e 26 25 e 26 dicevo ci saranno due momenti quindi la prima di giugno e l'ultima di giugno potrebbero essere verosimilmente due momenti di importanti avvenimenti sia da un punto di vista naturale che forse anche geopolitico noi ovviamente ecco anche geopolitico però esce il mio libro in cui perché c'è un carissimo amico di Overture Paolo Franceschetti ciao Leo hai notato ma te la leggo dopo in diretta 342 41 51 406 per parlare di masoneria evadere le vostre curiosità ovviamente è la persona che risponde che è Leo Zagami a dopo